oh bene ragazzi ciao a tutti e bentornati in questa nuova live e una ecco ecco era partita che la live di di twitch allora bentornati in questa nuova live ragazzi e ci vediamo un po su questo canale e che ovviamente ci mancava da un po quindi ho detto vabbè facciamo questa cosa tutti insieme quindi benvenuti e andiamo a un po a ragionare su quello che potenzialmente sta succedendo adesso sui mercati per la questione della dello speech di powell una cosa già si è vista ragazzi ed è la questione legata ai tassi di interesse d'attesa i tassi di interesse che si sta modificando indovinate un po esattamente e dove avevamo pensato cioè nel nell'ambito del rialzo anche per la prossima riunione però di questa ancora non lo sappiamo con precisione credo che i mercati vogliano aspettare esattamente powell per capire cosa dice oggi e di massima però eh sostanzialmente ragazzi eh un po le probabilità si sono spostate quindi poi le andiamo a a vedere proprio nella giornata di di oggi eh allora altra cosa insomma eh fondamentale è salutarci perché non siamo eh non 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 siamo eh in pratica eh insieme da un po di di tempo intanto guardiamo il discorso di Pavel è già iniziato da qualche minuto però i mercati sostanzialmente non hanno fatto alcun eh movimento quindi eh allora vediamo un po intanto qui perché mi fa ehm c'è stato c'è un blocco sicuro ragazzi se vedete un attimo che lo ricondivido ricondividiamo lo schermo vediamo un po se eh se va oppure niente si blocca eh questo ragazzi il solito problema di della versione di Windows vediamo se riusciamo a eh sbloccarlo se no dobbiamo riavviare in pratica in pratica la la live vediamo un po eh allora mh 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 ok non so perché ragazzi non si aggiorna vediamo se facciamo un refresh no è proprio è proprio la lo schermo lo screen che è bloccato ehm non ho idea del perché tra le altre cose non l'ha mai fatto questo difetto ragazzi non ho idea del perché ma senza screen non possiamo andare avanti quindi ehm vediamo un po ok altrimenti sarò costretto a condividere la scheda per vedere se va niente allora vabbè ragazzi queste cose sempre eh quando eh le cose strane le cose più strane quando non è il momento cioè proprio quando Powell deve parlare vabbè allora vediamo un po allora vi condivido lo lo schermo la scheda direttamente che sembra andare in questo modo così quindi è un po' un po' meglio allora se eh guardiamo in pratica quelle che sono le i movimenti di bitcoin sono abbastanza eh standard anzi vi condivido anche l'altra che è ehm invece più ehm eh in pratica più ehm ehm veloce perché andiamo a guardare quella che è il movimento proprio in eh su quindici minuti ad esempio che eh con il graficuccio classico quindi per vedere un po' più o meno come si va a modificare nel caso appunto in cui ci sia in effetti un un atteggiamento peggiorativo quindi ci sarà un po' di volatilità però al momento vedete proprio eh nel gli ultimi minuti questa è la candela dell'apertura ehm questo è un grafico a cinque minuti quindi non sta succedendo niente il mercato essenzialmente è fermo allora eh risolto il problema tecnico andiamo a salutarci e vediamo un po' eh come come fare allora qualcuno stava già scrivendo dice prova a chiudere la finestra e carica il layout sì vabbè l'avevo già fatto Pawe l'ha dampato Twitch eh Franz hai ragione assolutamente sono ciao John sono matrimonio ho abbandonato cinque minuti per salutarti ciao John ok eh ritorno al matrimonio a ubriacarti se succede qualcosa ti avvisiamo eh vabbè allora eh insomma ci sono tutti gli altri ciao Costantin un saluto anche a te e Franz di nuovo ci salutiamo anche qua eh ciao Vidal ehm ciao Orac insomma eh allora render no oggi non credo perché eh avremo un sacco di cose da dire ciao Mauro buonasera a tutti ciao Mari ehm insomma ragazzi Adam Adam si si può vedere perché la possiamo vedere tranquillamente questa sera eh Andrea e ciao anche a te eh e boh ci siamo un po' eh tutti quanti insomma qui ragazzi così possiamo eh fare eh questa live saluti al Tibet eh beh guarda questa lì la il saluto dal Tibet lo eh approvo alla grande perché è meraviglioso ovviamente insomma e soprattutto penso che nei miei giri da nomade digitale di eh del mio programma quinquennale di questi anni eh penso che verrò anche lì magari se vengo ti avviso eh l'avviso priva ehm una mini analisi su Coinbase la la stocks intendi quindi su Coin ehm boh non c'ho non l'ho guardata so che era scesa parecchio questo l'ultima volta che l'avevo visto nuova 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 di Matic lo vediamo oggi ragazzi eh ovviamente Matic eh insomma sì si vede in Nepal sei in Nepal? ok la cucina nepalese me ne hanno parlato eh ciao a tutti ora si scende allora andiamo a vedere un po' ehm allora intanto io siccome sono con voi ragazzi se avete le news da parte di di Powell eh qualche notizia eh a screen buttatela giù nei commenti così la vediamo insieme e vediamo un po' eh anche di commentarla eh senza eh io poi le vado vado a leggere le news ovviamente quando eh chiudo la la live però mentre sono in live con voi non non riesco a farlo insieme sono ancora non del tutto iper multitasking e faccio solo una cosa a metà vabbè eh eh Steve questa era meravigliosa assicurante come il vecchio Nintendo a dirti la rita io ai vecchi apparecchi quello che facevo e davo una una pacca eh con il metodo che io definivo metodo di Archimede funzionava praticamente sempre con la roba anni ottanta però eh quella nuova mi sa un po' di meno ehm vabbè Costantino una live con 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 Luca e allora eh sì la eh faremo una live tutti insieme da quello che so ma non vi spoilerò perché non è sul mio canale quindi eh insomma comunque ci sarà una live a breve a breve vi spoilerò questo insomma va bene eh allora andiamo a vedere un po' andiamo a vedere un po' quello che sta facendo Bitcoin sembra assolutamente nulla quindi questo anche per eh andare un po' a guardare la questione eh io ehm teoricamente ragazzi non è che mi aspettassi eh dei movimenti improvvisi questa è la mia chart legata alla questione dei cicli non è la chart che vediamo sempre però eh in questa fase ehm quindi eh Bitcoin è un po' il bitcoin è un po' debole ragazzi le cripto in generale sono un po' mh un pochino abbastanza diciamo deboli e mh questo di solito avviene proprio nel momento in cui eh c'è un ciclo in chiusura di grande importanza quindi di solito avviene in questo in questo modo per intanto io devo fare sempre avanti e indietro perché non mi fa condividere la finestra e quindi devo condividere la scheda quindi purtroppo questo ci obbliga a cambiare un pochino allora la struttura di bitcoin e delle cripto va analizzata anche nella idea e nella in questo tipo di logica ragazzi cioè il fatto che per esempio Nasdaq ha effettivamente poi breccato vedete quel livello di resistenza che ci aspettavamo nelle scorse analisi ed ha confermato ufficialmente un troncamento di qualsiasi struttura ciclica quindi l'inizio di un nuovo ciclo annuale anche per Nasdaq 100 il 13 ottobre nel mese di ottobre 2022 a differenza del fatto che e da qui si pensava che questo mercato potesse fare un altro ciclo semestrale a ribasso invece non l'ha fatto perché poi con questa struttura aveva già un pochettino l'avevamo intuito già da qui che effettivamente non poteva essere parte del precedente ciclo però io una cosa la faccio vedere allora qui noi abbiamo fatto un'impennata di Nasdaq così come se vi ricordate eravamo qui l'ultima volta quindi Nasdaq ha fatto l'impennata ha superato i livelli di massimo che doveva superare dopodiché noi dobbiamo andare a chiudere il ciclo mensile in questo caso di Nasdaq ma non è solo questo il problema ragazzi è che è molto probabile che da qui Nasdaq abbia utilizzato il nuovo semestrale quindi più passano i tempi tecnici più noi ci avviciniamo alla scadenza dell'annuale di Nasdaq e quindi la possibilità che ci sia un trend molto più pronunciato al ribasso magari non tanto in termini di di trend cioè magari molto pesante a livello di debolezza ma in termini di lunghezza temporale ancora un altro mensile lo possiamo tranquillamente fare anche rialzista però il fatto che Bitcoin si sia scorrelato in maniera negativa in questo caso a Nasdaq 100 non è un bene soprattutto in questa fase vedete il canale discendente di Bitcoin come sta braccando il re delle cripto e tra le altre cose è anche visibile la struttura del ciclo di breve quello mensile di Bitcoin che è iniziato sul minimo di il 12 maggio e da qui vedete ha fatto un po' di up ma poi stenta un po' come ci aspettavamo nelle analisi ne avevamo parlato un po' stenta a recuperare in maniera consistente fa dei up dei down però non è molto molto deciso diciamo così soprattutto in riferimento al fatto che Nasdaq invece a differenza di Bitcoin ha fatto cose magnifiche cioè è salito tantissimo eccetera la questione insomma va vista ragazzi perché una cosa del genere nel momento in cui il mercato tecnologico americano dovesse rivirare un po' a ribasso potrebbe in effetti innescare un po' di panico nelle storie delle crypto e quindi un po' peggiorare intanto c'è un mini movimento al rialzo per quanto riguarda Bitcoin che sembrerebbe a questo punto che Powell abbia detto qualcosa ragazzi avete notizie intanto di di Powell da ha detto qualcosa diciamo di particolare intanto voi possiamo monitorare anche questo dato qui che è quello che volevo farvi vedere sulla questione vedete della probabilità del non rialzo dei tassi che era 86 88% pochi giorni fa vedete 84% pochi giorni fa anzi mi devo condividere mannaggia il l'altra schermo allora eccolo qui vedete era 84% una settimana fa il fatto che la Fed probabilmente non avrebbe alzato i tassi e mentre adesso siamo passati a 66 con 34 più o meno che alza di 0 25 questa cosa qui è un po' il pensiero che vi avevo accennato l'altra volta quando vi dicevo che io ho un po' il dubbio che Pagol si fermasse ce l'ho e vediamo il mercato cosa farà vediamo anche il discorso di di oggi intanto ok allora cosa ti sentirei la tua voce velocità 1 io sento ogni cosa a 2 quindi non dirlo a me vabbè allora vediamo un po' cosa ne pensi di Nasdaq e Big Tech delle 75 sono molto vicini ai massimi mentre i bond vanno giù ok 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 ragazzi ciao allora cosa ne penso penso che i bond vanno giù per il rialzo dei tassi quindi non c'è niente di anomalo in questo è un atteggiamento classico i bond sono programmati quindi seguono delle regole delle logiche assolutamente standard i rialzi dei rendimenti dei mercati americani non sono consistenti al punto tale da far presumere che il mercato sia scontando un problema grave ma sono semplicemente dipendenti dal fatto che probabilmente i mercati forse si aspettavano che i tassi si fermavano e invece non si fermeranno probabilmente questo e quindi devono un po' risistemarsi in ogni caso Nasdaq e SP sono ai massimi perché i mercati l'economia va a gonfie vele cioè questo è il discorso cioè l'economia americana va a gonfie vele e quindi i mercati avevano scontato troppo nella fase iniziale dell'anno una fase di bassista è una recessione che non è mai arrivata e probabilmente non arriverà neanche adesso perché i dati anche oggi sull'occupazione nuovamente iperpositivi insomma vediamo poi il PIL perché un po' si dovrebbe fermare è ovvio insomma questa cosa non è che può continuare così però sicuramente i mercati avevano pensato che la recessione fosse brusca peggiore e così non è stato quindi sono ritornati un po' ai massimi poi ci sono le classiche oscillazioni naturali eccetera sono tornati in modalità risk on cioè da dire come dicevamo prima che Nasdaq è al massimo e questo potrebbe indicare che stiamo facendo proprio il massimo del ciclo annuale ragazzi e se facciamo i massimi del ciclo annuali poi da qui in poi si inizia un po' a baccamenarci siamo a maggio quindi c'è il sale main go away non c'è mai stato questo ribasso forte i tassi sono altissimi l'economia deve scricchiolare tra un po' perché c'è che superman non può fare una cosa del genere quindi un po' la recessione indotta dalla fed arriverà a prescindere poi magari non è forte ma arriverà e nel momento in cui avviene questa cosa ovviamente forse un po' i mercati magari si accorgeranno che hanno corretto troppo il rialzo se poi questa benetta recessione non dovesse mai arrivare ragazzi e l'infrazione si sarà controllata e i mercati poi festeggiano perché vuol dire che la fed ha un botto di cartucce in mano per poter spendere nel momento in cui arriva la recessione e se non arriva e l'economia va a gonfievere va a gonfievere con i tassi discretamente alti questo significa insomma surplus anche per le banche il sistema finanziario che lo so che vuoi pensare il sistema finanziario stia fallendo perché i tassi sono alti il sistema finanziario con i tassi alti ci va a nozze il problema è che le banche precedenti che avevano fatto tipo la Silicon Valley avevano fatto delle strutture speculative che si basavano sui tassi bassi e quindi quando quelle scommesse sono andate a spavore ovviamente sono andate down ma chi magari all'interno delle banche fa oggi magari le loro strutture i loro i loro prodotti attualmente da qui in poi vanno in guadagno è prima il problema non dopo questo è il discorso però io non credo che sia così semplice secondo me la recessione arriva e insomma poi dovremmo un po' non vedere intanto vediamo se si aggiornano perché Bitcoin si sta muovendo ragazzi quindi lo vediamo insieme intanto vediamo se avete news sulla questione Powell voi pubblicatemi sempre qualcosa ok ragazzi allora andiamo a vedere la questione Bitcoin che si sta muovendo e la vediamo sulla questione eccolo qua sui più piccolini sui cicli più piccolini allora guardate che impennata questo sicuramente sono legate alle parole di Powell questo è un grafico a 5 minuti gli amanti della ciclica sanno che qui è iniziato un ciclo daily che chiuderà quindi alle 20 di stasera quindi tra pochissimi minuti più o meno intorno alle 20 non è detto che sia così i cicli daily sono iper rumorosi quindi figuriamoci andarle a prevedere e però insomma un po' il mercato insomma si sta sembra si sia mosso in maniera positiva non che cambi granché perché a livello daily e soprattutto a livello settimanale il mercato delle cripto è chiuso in questa struttura settimanale che ha fatto un 5 giorni quasi 6 qui quindi se non scende sotto questo minimo e continua probabilmente sta facendo un ciclo ternaio insomma una cosa anomala ragazzi però in sostanza è all'interno di una struttura ciclica molto chiusa in barra di congestione vedete qua qui questa fase in questo modo e una struttura di questo tipo non è né carne né pesce anzi se andiamo a considerare il concetto che vediamo Fede che ci scrive Fed Powell policy rate may not have to rise as far ok 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 quindi l'inflazione in pratica è ben al di sopra dei nostri obiettivi la Fed è obbligata a ridurre l'inflazione al 2% continua ad essere o chisce da sempre con la sua solita ambiguità però qui praticamente dice che non deve insomma tirarli su cioè non è lontana dal fatto che questa diciamo fase potrebbe possa essere possa terminare insomma in pratica dovrebbe essere un po' vicino ma io credo che Powell come sempre continui a dire un po' entrambe le cose perché concettualmente non è cambiato niente io questa cosa la capisco anche cioè gli obiettivi del 2% della Fed sono quelli ragazzi e fino a quando non li raggiungono e fino a quando l'occupazione non va in pratica a peggiorare in maniera grave e la Fed continuerà a fare questa cosa ok infatti sì perché dice appunto che è possibile che ci sarà una supply shock continuerà la supply shock e questo potrebbe essere difficile da prevedere perché evidentemente anche con questo processo di leggera deglobalizzazione che stanno improntando con improntando con le liti diciamo che hanno insomma un po' relativamente alla questione della Cina allora a quel punto potrebbe anche decidere magari di cioè dice probabilmente la supply chain ancora non è diciamo a posto e quindi potrebbe peggiorare però è tutto ragazzi in sostanza vedete anche qui potrebbero essere necessari aumentare i tassi o insomma perché c'è la questione del debito allora anche qui ragazzi Powell si tiene con due piedi in una scarpa è palese questa cosa perché in sostanza a lui interessa riportare in equilibrio il mercato ci sta riuscendo ci stanno riuscendo io sono ancora dell'avviso che i tassi il prossimo FONC aumenteranno di 0,25 i mercati secondo me sono in un bias iper ottimista molto più di quello che si possa pensare sulla questione dei tassi probabilmente non si aspettano un altro aumento ma l'aumento io credo che ci possa essere ragazzi l'unica cosa insomma se dice non aumentiamo per via del stress del credito ma poi il suo obiettivo comunque è l'inflazione controllare l'inflazione è in questo momento l'obiettivo principale della Fed se l'inflazione non rientra è al momento l'inflazione americana e si bassa però diciamo non ha in particolar modo molto toccato scesa parecchio diciamo toccato i livelli di target intanto vabbè c'è anche questa questione qui quindi inflation non housing però ok service è particolarmente suscettibile sì è chiaro vabbè ai redditi del del lavoro vabbè questo è ovvio che sia che sia così insomma ci sta ragazzi però io credo che la questione legata alla alla al rialzo dei tassi sia quasi accontornata io penso che Bawel voglia alzarli un altro po' e poi aspettare però può essere che il prossimo FONC decida appunto di aspettare poi in caso rialza il mese successivo se vede che l'inflazione diventa estremamente diciamo si surriscalda ulteriormente quindi al di là di questi concetti quello che sta dicendo oggi in pratica è una conferma al cento per cento di quello che è sempre detto quindi questi FONC iniziano ad essere anche questi discorsi iniziano ad essere solo frutto di volatilità per i trader di brevissimo ma poi sostanzialmente non cambia niente perché ragazzi perché la Fed quando ha parlato ha già definito quello che vuole fare quindi o il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti in penna all'impazzata e quindi deve intervenire o le banche o le banche crashano in una maniera abnorme e non come stanno facendo perché lo so che magari si può pensare che questi crash siano eccessivi ma in realtà non è del tutto così secondo me loro lo avevano già controllato questa cosa questo è ok may be more responsive to change in job market è ok è questo è il problema è un incudine e un martello perché se il mercato del lavoro sale i prezzi l'inflazione rimane stagnante per un po' e quindi non riescono a controllarla se il mercato del lavoro va in recessione quindi aumenta la disoccupazione e loro però hanno come obiettivo di intervenire per mantenerla a livello naturale che vi ripeto è sotto livello naturale quindi un po' di disoccupazione in più non gli farebbe male no? agli Stati Uniti in questo momento secondo me è tranquilli nel martello e al centro di questi due pezzettini si trova proprio la soluzione di Powell cioè quello che lui vuole vuole arrivare a un soft landing pulito e delicato senza intaccare troppo i mercati ma non facendo salire i salari in pratica e quindi non facendo salire non trasferendo il tasso di infrazione a livello sistemico quando sale si trasferisce sui salari il tasso di infrazione si diventa stabile cioè quindi il rialzo dei prezzi non è più controllabile perché quel rialzo di prezzi il successivo è controllabile però quel rialzo non è controllabile perché diventa salario e una volta che è salario ragazzi non si torna indietro i salari salgono non è che possono scendere e quindi sostanzialmente questo è quello che dice sulla questione del salario tecnicamente la view in questo caso è dal mio punto di vista ripassista io ve lo dico non l'ho detto per quanto sono giugno sei mesi è ripassista però delicata in maniera delicata perché questa fase io non la vedo bene in quanto i mercati stanno scontando un rialzo dei tassi e non sarà così secondo me punto numero due ve l'ho detto già da da più di una settimana punto numero due l'inflazione è controllata ma non è al target questo significa che ci sono ancora rischi è come una macchina che ancora è in strada siamo arrivati vicino alla meta ma ancora sta a 200 all'ora in autostrada quindi qualsiasi cosa può succedere perché vi parlo spesso di questa cosa ragazzi perché nel settore delle cripto l'inflazione quindi la liquidità ha un impatto notevole su bitcoin e sull'intero settore perché le cripto lo scorso anno nel 2022 hanno subito un impatto in termini di volatilità di liquidità drammatico perché vi ricordo che è fallito un market maker stra importante come FTX e non so qualcuno di voi l'avrà notato da quando FTX è fallito il mercato delle cripto è diventato un mercatino dell'usato perché manca un player iper importante che creava volatilità e liquidità all'interno del mercato poi giusto non giusto bello non bello quelle sono altre opinioni noi parliamo di struttura del mercato ci vuole la liquidità mancano quei soldi quei soldi che si muovono e quindi un taglio di liquidità quindi un innescare ancora una spirale di volontà recessiva da parte delle fede sul mercato del cripto è molto pesante quindi questo è diciamo va a bambis questo ciao finlandese il che ne pensi del DAX penso che il DAX sia un indicatore in questo momento però è una mia opinione non ho ancora ragionato bene questa cosa voglio anche confrontarmi con tante altre persone se ci riesco il DAX ragazzi è secondo me in questo momento rappresenta come il gold un bene rifugio ma per le stocks cioè per le azioni evidentemente ragionando sul fatto che in Europa ci sono dei problemi evidenti sul fatto che mantenere dei tassi di interesse così elevati siano insostenibili per il debito pubblico dell'Italia per esempio e anche di altri paesi e questo porta a cercare bene il rifugio o borse rifugio in questo caso il DAX lo è lo è già a livello europeo senz'altro ma anche a livello mondiale perché a livello mondiale il DAX è una una in sostanza una borsa con una azienda una uno stato che ha un bassissimo debito pubblico e in una situazione del genere chi guadagna di più ragazzi tassi alti chi ha debiti paga di più chi non ha debiti paga di meno quindi tassi alti chi è forte chi non ha debiti e questo sta così intanto salutiamo Hard Rock Crypto ciao sarà Rick credo ciao super Rick numero uno ci vediamo prestissimo io un po' lo spoiler l'ho fatto che mi hanno chiesto quando torniamo in live tutti quanti ho detto beh io non dico niente poi ci pensa Rick insomma vabbè ok le mie posizioni sono fuori in questo momento sì sono fuori tutte quante non c'è niente ci sono solo i bitcoin quelli che stanno lì da quando li ho minati ragazzi e non li voglio vendere decisione sbagliata a livello da investitore ve lo dico proprio chiaro decisione corretta a livello emotivo perché li tengo lì perché io c'è anche un rischio che non è un rischio diciamo è un fattore fantastico per le cripto che magari succede qualcosa e bitcoin diventa accettato come valuta da un giorno all'altro allora magari lì il trading faia ragazzi perché non ha la tempistica giusta per farci rientrare a prezzi adeguati e quindi essendo la tecnologia di bitcoin comunque estremamente innovativa ed essendo un super bitcoin io ci credo quindi quelli non li vendo mai però in sostanza a livello di investimento sarebbe sbagliato a meno di questi cigni iper bianchi questi eventi super top però vabbè allora intanto era era Rick che era era lui ecco allora il 30 vabbè se l'hai detto l'hai detto in live io lo posso dire ragazzi il 30 c'è la live questo ve lo dico c'è una live tutti quanti insieme e andiamo dai ragazzi degli out of the rock insomma a farci la live tempo fa avevi fatto un video su come i mercati guardano a bitcoin se dovesse arrivare ad una recessione dura pensi che i mercati guarderanno a bitcoin come riserva di valore o classe di investimento ad alto rischio secondo me con una recessione forte bitcoin non subirà le conseguenze di quello che potrebbe subire il mercato azionale però te lo dico proprio chiaramente non lo abbiamo mai visto affrontare una vera recessione bitcoin abbiamo però visto per la prima volta affrontare un quantitative tightening cioè quindi il taglio dei tassi e il più grande taglio dei tassi scusami non il taglio il rialzo dei tassi e il più grande rialzo dei tassi degli ultimi vent'anni quindi già gli abbiamo fatto assaggiare questa merenda amarissima e sta sta bene così la recessione sarebbe l'altra componente che bitcoin ancora non ha visto ma dal mio punto di vista le cripto non essendo ancorate a valori reali nell'economia reale non dovrebbero avere un impatto dalla struttura recessiva anzi potrebbero beneficiare anche di questo qualora ritornasse un po' di appeal su questo mercato proprio perché si vanno a ridurre i rendimenti sugli altri asset quindi riducendo i rendimenti sugli altri asset diciamo sarebbe poi da ragionare un po' se le cripto possono fungere da volano e dire ok vado sulle cripto che almeno si guadagna un po' di più e questo è il discorso io credo che infatti le cripto comunque con la eccessione non c'entrano niente questo è ovvio concettualmente non c'entrano niente perché non producono utili non producono niente quindi però bisognerà andare a comprendere se effettivamente sarà così quindi va visto insomma questa cosa intanto andiamoci a rivedere lo schermino perché bitcoin ha fatto il classico pump and dump quindi sulla volatilità confermando in sostanza il nulla di fatto vedete del news che secondo me ormai dobbiamo abituarci che queste news saranno inutili la prossima news che potrà servire secondo me ai mercati è quando Powell dirà che andiamo in quantitative easing e quindi tagliano i tassi prima di allora secondo me vabbè allora ciao ragazzi ci siamo visti a Roma con voi un saluto anche da parte mia numeri numeri uno ok allora in che fase del grafico del sentiment dell'investitore siamo ah ma questo è interessante adesso aspetta che lo recupero di nuovo recupero la solita fotina che la vediamo insieme perché ci pensavo proprio l'altra volta io ho una mezza idea ce l'ho perché almeno lato cripto insomma parlo lato cripto poi diciamo ci sono diversi diversi sfaccettature diversi mercati dove si può andare a ragionare questa cosa ok eccola qua però di nuovo devo fare il cambio che poi intanto Rick ha fatto anche la domanda sul caso legger ne parliamo anche insieme di questa cosa allora devo fare però il rimuovi di nuovo schermo ragazzi perché c'è quel problema allora e andiamo a vedere il diagramma allora dove siamo secondo me nella parte delle cripto siamo qui tra avvilimento e depressione questo è quello che io penso ragazzi secondo me siamo tra avvilimento e depressione forse un po' più depressione però vi dico in maniera molto chiara che il settore delle cripto secondo me ha fatto un balzo bitcoin ma il settore delle cripto no ha solo rimbalzato dal disastro che era stato il 2022 ma in pratica non c'è nuova pomo su questo mercato non c'è nuova linfa manca interesse non è cambiato niente siamo in depressione del mercato non c'è neanche la speranza non ci siamo arrivati quindi dal mio punto di vista capite bene cosa significa abbiamo un bel po' di cose da fare ci vogliono due anni vediamo che cosa succederà se il ciclo dell'albing si ripeterà il 2024 può essere un anno interessantissimo per le cripto come da inizio anno vi ho detto prima di giugno non se ne parla di alt season vediamo da giugno in poi se arriva qualcosina dopo la chiusura di vari cicli annuali che ora magari vediamo quando andiamo ad analizzare queste cose intanto grazie anche a te numero uno anche tu numero uno anche tu allora Mario come vedete il secondo semestrale di BTC ne parliamo tra un po' rispondo solo al super Rick che ci ha scritto la questione di Legger allora io Legger ho adocchiato un pochettino quelle che sono alcune news non mi sono mai tritato di Legger tu lo sai bene che insieme eravamo quando io ho preso il mio wallet safe poll ho anche Legger li ho tutti però però al momento secondo me hanno fatto semplicemente un servizio in più per le persone che gli è sfuggito di mano cioè secondo me loro hanno un po' tentato di fare una cosa che non è commerciale non si sposa bene con il pensiero generale della della community e quindi devono rivedere ma comunque Legger non è nuovo da questi punti di vista con questi aggiornamenti eccetera anche il fatto che loro abbiano inserito la carta per esempio e con la carta tu devi fare che è quasi già si evince la natura di quel wallet è un cold wallet che però poi i dati li vuole perché se tu per esempio hai usato la carta di Legger Legger c'è i dati cioè ormai c'è i dati i tuoi e quindi in pratica è la stessa cosa allora la seed mettere in una cloud loro è più sicura di una di tenerla per i singoli per le singole persone e questo al di là dello scandalo che può dire una cosa del genere non è sbagliato però potrebbe diciamo a volte aiutare molte persone che magari dicono io non le so tenere queste cose e quindi le do a leggere quindi insomma da un punto di vista ci può stare io non sono così negativo sulla cosa è un po' la politica di leggere che fa questa roba qui comunque poi ti chiamo dopo non mi disturbare nella live ti chiamo dopo ne parliamo smettila smettila va beh allora intanto che ha detto Powell Wolf Polisist Restritt non ce l'avevamo accorti lag effect of tightening ok sono consapevoli ma questo è ovvio insomma ci sta la politica è restrittiva e ci sta io i miei li avevo già quando mi hanno inviato i wallet e si sono fatti aggerà mi ricordo sono fatti aggerà allora tu per favore non fare più niente avvisami prima ok insomma così facciamo non facciamo danni va beh allora come ti trovi con SafePaul mi trovo molto bene c'è da dire che io non sono un amante dei cold wallet ragazzi ve lo dico ne ho parlato anche con Marco di Blockchain Cafè quando è venuto in live a parlare di queste cose io non amo i cold wallet in generale perché sono un trader ragazzi ci serve flessibilità questo è un problema è un trade off sicurezza flessibilità io preferisco i software wallet ho bisogno di avere il controllo veloce e immediato perché se voglio fare qualche operazione index devo poterlo fare SafePaul su questa cosa è avvantaggiata perché c'è anche un'applicazione che ti fa poi diciamo entrare su Binance però anche lì se tu fai Binance c'hai l'account quindi che così cioè sanno che è il tuo non quello lì quindi poi insomma si entra con il solito giochino va bene ok Franz dice che l'Italia ha messo il mio wallet ti sentivo fra tre anni va bene se non ti rispondo vuol dire che me ne hai a ti troppi e poi non lo so dai poi ci vediamo ti offrono un caffè facciamo così allora se l'America va in default vale la pena pensare ad una stable tipo Euro T ciao se l'America va in default il mondo economico è finito te lo dico proprio chiaro in Europa non si salva niente l'Italia fallisce all'istante e insomma le banche tutte falliscono quindi il pensiero di andare a ragionare sull'euro cioè però sì sicuramente va bene l'euro ci faccherebbe ma il default degli Stati Uniti può avvenire a livello tecnico non reale cioè con il discorso dell'attetto del debito che magari ci spiega un anno sopra a livello politico ma se gli Stati Uniti falliscono c'è un cambio di paradigma del sistema economico mondiale e e questo significa reset generale come è stato nei vari anni io spero di non vedrlo mai non ve lo nascondo ragazzi e e quindi a quel punto intanto le cripto sono l'unica salvezza e questo ci siamo alla grande su questo qui e perché gli Stati saranno un disastro totale perciò da quel punto di vista credo che bitcoin sarà l'unica salvezza una cosa del genere ma per il resto succederebbe un disastro quindi economicamente e finanziariamente bisogna resettare tutto ripartire da capo quindi poi guerre e insomma e grandi problematiche quindi non sarei molto a pensare a dove metto le stable diciamo che il problema sarebbe estremamente più grande e sarei più a pensare a come mi proteggo in casa se arriva qualcuno vabbè però vabbè detto questo scherzi a parte io non credo in queste cose a parte il discorso del fallimento tecnico ragazzi vorrei parlare un po' delle cripto che ne avevamo detto una domanda per le posizioni hold in spot utilizzare i DEX pensi siano più affidabili rispetto ai CEX no secondo me sono più affidabili i CEX ma i CEX devi metterli lì poi li devi prelevare invece in DEX io faccio lo swap ce li ho già sul wallet con le mie chiavi ce le ho io e non rischio niente cioè rischio se perdo le chiavi quindi il DEX è meglio da quel punto di vista però è meno liquido ha più costi gli SDI sono più ampi le commissioni sono più alte è peggio è ovvio che è peggio però è un peggio accettabile perché comunque se io devo portare le mie cripto su Binance devo fare il withdraw delle cripto su Binance poi compro le cripto poi le risposto sul wallet poi dopo tre giorni mi esce l'operazione devo rifare la stessa cosa cioè a livello temporale ci vuole troppo e perdiamo troppo tempo costa troppo in termini di transazione non c'è è una cosa assurda meglio usare i DEX a quel punto e paghiamo di più però che costano di più ragazzi però è un servizio che danno che ovviamente ha il suo costo perché è anche un suo valore enorme valore in questo caso andiamo avanti allora Fino House dice cosa ne pensi di Arca Invest sto valutando un video su Arca Invest quindi poi magari facciamo un video a tal proposito se fai backtesting sui periodi della Fed dei tagli dei tassi generalmente ciò fa crescere i mercati non è questo il più grande sell the news allora ciao Jürgen il taglio dei tassi fa crescere i mercati perché è un sell the news così come adesso taglio dei tassi significa che le questioni vanno male ragazzi allora voi dovete capire una cosa la Fed non che taglia i tassi perché vuole che i mercati salvano la Fed taglierà i tassi se l'economia va a rotoli cioè se la disoccupazione va alle stelle siamo in recessione forte quindi quando la Fed taglia i tassi i mercati fanno schifo cioè teoricamente cioè sono andati in profondo rosso quindi siamo in quella fase lì poi questo va capito quindi se tu fai un calcolo statistico probabilmente tutti i primi tagli dei tassi ti vengono sempre dei sell the news o palesi perché siamo probabilmente in una fase di bassista però non l'ho fatto questo calcolo sarebbe interessante farlo molto molto interessante basta andiamo a parlare di crypto e andiamo a parlare di Matic perché giustamente Marco la sta chiedendo da due minuti e ci sta ci sta assolutamente perché Matic avevamo detto che la vedevamo e tra le altre cose io ho proprio un tool aperto su Matic con già tutti quelli che sono i cicli già calcolati allora 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 eccola qui Matic Polygon ragazzi ha seguito alla lettera alla perfezione quello che abbiamo delineato con qui siamo sugli inversi scusatevi di giro il grafico allora abbiamo seguito alla perfezione e quello che poi Gianluca dice guardiamo pure Solana perché mi piaceva anche guardare Solana e BNB infatti sono quelle che volevo guardare ragazzi quindi esattamente siamo in linea allora questo è il ciclo annuale di Matic intanto una cosa che si evince in maniera chiara la pulizia assurda di questo ciclo bellissimo che ha parlato Siri allora è di questo ciclo bellissimo ragazzi perché come vedete ha proprio una struttura ma ragazzi questo è proprio un ciclo da manuale con i trimestrali tutti divisi cioè questa fase qui mancherebbe l'ultimo pezzettino cioè fantastico la M visibile in maniera chiara ed evidente vedete qui in classica la struttura ciclica allora ciclo annuale al momento è in totale fase di chiusura lo abbiamo indicato quando eravamo in questa zona ed ha funzionato alla grande 328 giorni è corto dal mio punto di vista non ha chiuso questo ciclo poi a meno di rialzi vari eccetera non credo in questo momento che Matic possa essere possa riprendere un trend pronunciato a rialzo senza aver chiuso prima il ciclo annuale io ho indicato la data di metà di giugno come più o meno standard una data da un ciclo annuale standard di 360 giorni un ciclo annuale del genere è un po' corto anche per le cripto le cripto a volte fanno anche più di 400 giorni Matic lo potrebbe fare anche perché questo è una struttura ciclica in congestione però cioè in una specie di rialzo in barra di congestione non è propriamente un rialzo ecco non è un trend come questo qui ragazzi che è iper rialzista questo qui è una super barra di congestione leggermente rialzista che ovviamente nel caso di Matic magari se calcoliamo dal minimo è tanto però questa insomma struttura ciclica non ha ancora dato nessun segnale di chiusura in particolare qui probabilmente è iniziato un altro ciclo mensile cioè è possibile che qui Matic abbia fatto come anche Bitcoin l'inizio di una struttura ciclica mensile lo sapremo tra poco ma in pratica già lo sappiamo scusate il gioco di parole perché perché siamo a sette giorni e un ciclo settimanale è sufficiente a dirci che è iniziato un ciclo mensile non è proprio da pulitissimo però è sufficiente questo settimanale c'è otto giorni che il mercato sta su ci indicano che qui è iniziato un nuovo mensile mensile che al momento è molto debole questo però non vuol dire nulla perché alcune volte i mensili che iniziano deboli poi fanno il massimo appunto nella seconda parte e fanno così quindi non è detto che questo significhi che debba crollare però è chiaro ragazzi che monitorare il minimo a 0,81 e 7,7 quindi 0,82 è fondamentale un ribasso di Matic al di sotto di 0,80 indicherebbe che questo ciclo mensile diventa ribassista e probabilmente un nuovo ciclo mensile che chiude l'annuale o tenterà di chiudere l'annuale andando in questa zona qui il target che vi avevo delineato di arrivo della struttura annuale di Matic era tra 0,7 e 0,8 quindi in questa fascia di prezzo manca un pochino e ci arriva io comprerò in questa fascia di prezzo assolutamente no perché quello che farò è attendere eventuali poi sviluppi ciclici per prendere poi posizioni certo mi garba la cosa perché un nuovo annuale su una cripto come Matic che è abbastanza potente non mi dispiacerebbe tradarlo non vi nascondo il precedente annuale ha fatto tra un minimo e un massimo 293 punti anche che mi posiziono per dire a una zona di qui ed esco non hanno di più sui massimi da quello ha fatto 400 punti anche che mi posiziono diciamo qui ragazzi in una zona del genere e si esce in una posizione del genere un 150 punti si fanno tranquillamente quindi insomma e beh non è che glielo lasciamo no è questa cosa qui però in questo momento è secondo me è assolutamente da evitare io ho aperto anche un leggero short su Matic ma è uno short da trader ragazzi quindi non ne parlo di queste cose perché è possibile che lo chiudo domani quindi non ha senso neanche indicarlo però è un insomma uno short che ho voluto aprire proprio per la scadenza ciclica annuale allora è possibile vedere un ciclo annuale rialzista come quello precedente sì assolutamente sì certo anzi dovrebbe essere così in realtà allora Costantino hai comprato Matic a 0.3 fantastico va bene 0.3 va bene quant'hai comprato cioè perché non l'hai venduto qui questa zona almeno qui vedi qui quando hai invertito questo trend qui scherzi a parte quant'era 1.30 va bene allora detto questo insomma possiamo passare all'analisi di di Solana ragazzi intanto stavo leggendo che Paolo ciao Paolo intanto Paolo è nell'academy NQ fortissimo ha superato i 1.3 quasi ne abbiamo parlato prima fortissimo esattamente e Bitcoin non segue e questo è preoccupante assolutamente allora andiamo a vedere un po' Solana quindi io Matic ragazzi aspetterei questo ciclo mensile per vedere che succede questo è la morale della favola tutto qui andiamo a vedere invece Solana che a dire la verità secondo me Solana non ha un ciclo annuale incluso perché non si capisce perché c'è quel problema della questione del crash di FTX allora siamo alla struttura di 140 giorni più o meno passati dal minimo di dicembre per quanto riguarda Solana pensare che l'annuale debba ancora chiudere fuori luogo perché un annuale che era iniziato a giugno ribassista così che non insomma sta a 100 o fa un crash istantaneo oppure questo è un nuovo annuale iniziato a dicembre nuovo annuale iniziato a dicembre che sta chiudendo il secondo trimestrale probabilmente ma che ha ancora spazio di movimento che però non ha fatto nulla e questo lo dice anche lunga perché Solana un po' il dubbio ce l'aveva di queste cose qui su questo livello di 15 ci sono state alcune versioni in ingresso quindi day long perché superato questo livello ha indicato l'inversione vedete ha passato lo swing precedente e quindi ha indicato l'inversione però poi si è fermata al successivo livello di resistenza immediatamente successivo poi al di sopra di questo c'è questa zona che è tutta una zona di oscillazione tutta e non c'è niente qui tutta questa zona qui ora che Solana possa arrivare anche in questo punto qui può essere anche possibile all'interno di questo ciclo annuale non lo metto in dubbio soprattutto se ad esempio abbiamo questa fase di ripresa che coincide anche con la fase successiva dove bitcoin magari può andare a tentare un nuovo avvicinamento ai massimi storici quindi non la sottovaluterei ragazzi però attenderei anche in questo caso la chiusura di questa struttura ciclica su questo ecrito io ragionerei in termini di trading l'accumulazione di lungo periodo il progetto è sempre lo stesso ragazzi quello che era prima di FTX quindi grande validità del progetto grandi problemi tecnici da risolvere però grandi prospettive un team che aveva delle logiche insomma era molto buono già da allora è stata la mia cripto preferita nel 2021 un po' tante cose si sono fermate ma è anche vero che se andate a guardare i grafici attualmente i dati sulla liquidità loccata per esempio in questo progetto e la sua capitalizzazione vi rendete conto che ha una capitalizzazione abnorme rispetto alla liquidità questo è un dato che a livello di analisi fondamentale non sposa bene con un progetto cripto è la rende pericolosa questo è il discorso quindi qualità del progetto tutto quello che è però il problema liquidità ce l'ha e ce l'ha regolare perché mancando il player principale che era proprio quello che in pratica dava la liquidità e non è riuscito a trovare nessun altro player attualmente ancora sull'ana però questo è normale in un mercato del genere estremamente esente di liquidità dove il mercato cripto addirittura anche bitcoin stesso ha iniziato a fare quegli spike classici che facevano nel 2018 pensate un po' proprio per assenza di liquidità figuriamoci sull'ana all'interno di un protocollo che ha subito tutto quello che ha subito dico che devono dimostrare tante cose a livello quindi di analisi da trader vi direi che un longhettino su una fase di rimbasso per esempio che vada a chiudere un ciclo come questo semestrale qui che potrebbe chiudere a momenti vedete tipo 80 giorni così anche lui a giugno e se fa magari un fase ribassista in questa zona perché no tentare magari potrebbe nella seconda parte tentare lo sforamento dei 27 e se ci riesce si riposiziona qui e poi soprattutto se ci riesce ha molto spazio perché non è cappata cioè non ha subito dei livelli di resistenza perché dopo questo l'altro livello di resistenza è questo ma non è potente come gli altri e poi li ha diciamo divisi all'interno di queste strutture quindi insomma può muoversi ragazzi quindi può dare soddisfazione un ingresso qui perché può magari entrare e fare un 30-50 punti con facilità quindi ottima secondo me da un punto di vista di trading anche da valutare anche Solana dopo la chiusura di questa fase sempre giugno ci vuole come vi dicevo va bene abbiamo tempo solo per una altra cripto poi devo chiudere ragazzi allora the banking system is strong and resilient e Powell pensavo che diceva che il sistema bancario americano era un colabrodo ragazzi immaginate una cosa del genere ma il sistema americano è un colabrodo stanno fallendo tutte le banche che è una cosa bellissima va bene ciao Costantin allora puoi fare una puoi mandare una mail a info chiocciolatelingon.it e dire richiedere l'accesso c'è da dire però che il livello di formazione per accedere in academy è necessario il livello di formazione è abbastanza alto quindi la questione è che se il mindset le strategie che applichiamo poi non le comprendi e non hai fatto il corso non ci capisci niente entrando in academy cioè non riesci a sfruttare l'academy questo è il problema quindi un po' stiamo adoperandoci per creare un percorso mini piccolino gratuito per far accedere anche chi magari non ha fatto il corso basic anche perché il corso basic è diventato un malloppone gigante e c'è dentro anche l'analisi ciclica le basi ma ci sono insomma e quindi è un bel corso insomma di rilievo e quindi volevamo fare una cosettina più semplice però in ogni caso ragazzi io non mi pentirò mai di dirvi che se non avete la formazione e volete entrare in academy il primo step è fare il corso basic non ho mai sbagliato in dire questa cosa nessuno di quelli che ha fatto il corso basic mi ha detto che non era così anche quelli che erano estremamente formati sono stati convinti dall'assistenza a fare comunque quel corso hanno detto che era meglio perché hanno in ogni caso approfondito delle tematiche di mindset di approccio che sono l'abc del trading senza quello non si fa niente però io vorrei riaprire l'academy ragazzi per una settimanina anzi penso che farò un sondaggio vediamo un po' che cosa rispondete tutti quanti se la riusciamo a riaprire però io continuo a dire che è fondamentale avere la preparazione secondo te il numero su apple che è presente il visore per la realtà virtuale 5 giugno se confermati durante il video potrebbe avere un effetto come facebook quando è cambiato il nome in meta per i vari token del sistema metaverso ciao marco bella domanda questa cosa qui intanto non sapevo della questione di apple non lo so però in questo contesto secondo me bisogna vedere come siamo messi su che pista da sci siamo messi cioè se stiamo salendo con la funivia allora è un discorso se invece stiamo scendendo e c'è molto pessimismo secondo me questi tipi di dati non hanno impatto perché questi dati enfatizzano una sensazione una situazione emotiva già presente quindi se siamo in hype si continua con l'hype ancora di più ma se siamo in down secondo me non cambia niente magari fa qualcosina però ci possiamo pensare magari questa cosa qui un trade magari te lo puoi te lo puoi giocare un trade te lo puoi giocare non si sa mai quali analogie e divergenze vedi tra questo ciclo e il precedente nel 2019 ci fu una correzione molto pronunciata poi l'ultimo pump per fare i max e la correzione per il resto del ciclo potrebbe verificarsi qualcosa di simile e come condizioni di macro attuali possono influenzare ciao star iperdomanda super bella tra le altre cose le analogie con il precedente ciclo di bitcoin ci sono tutte c'è un solo dato scientifico nei vari cicli dell'alving bitcoin sta perdendo spinta rialzista cioè cresce ma non cresce alla stessa velocità dei dati precedenti l'ultimo fase di bull market è stata la peggiore di tutte quelle di bitcoin nonostante abbia fatto numeri giganti ma in termini di escursione di volatilità è stata la peggiore e questo è l'unico dato scientifico il precedente ciclo annuale che era partito sui minimi di dicembre 2018 ha fatto i massimi a giugno 2019 massimi da lì poi è sempre sceso poi ha tentato la risalita del ciclo annuale e poi ha fatto una gamba che si chiama lingua di Bayer che in quel caso è stato per la pandemia diciamo più che per lo stop hunting che è andato a creare il vero minimo molto più lungo questa cosa qui è che avvenga diciamo una nuova lingua come la questione pandemica secondo me no l'unica cosa che può avvenire è che il mercato possa scendere molto durante la fase di chiusura dell'annuale e quindi invece magari di andare a fare una chiusura dell'annuale blanda fa una chiusura dell'annuale pronunciata si riporta intorno magari in 15 ai 16 17 2000 dollari tentando di avvicinarsi al minimo questo è possibile io vedo più un atteggiamento di bitcoin tendenzialmente forte in termini di lungo periodo perché bitcoin anche se ha perso la spinta al rialzo ha però gestito una fase macroeconomica potente difficile molto complessa ha gestito una fase di regolamentazioni e di fallimenti del settore cripto bruttissima spigolosa terribile e questo insomma ci può stare c'è la questione legata alle vendite se arrivano quelle vendite famose dei mercati americani del governo americano e va visto ragazzi perché basta un nulla bitcoin per cambiare le sorti cioè l'abbandono per esempio del livello di supporto intorno a zona 26 259 26 sarà fortemente sentito poi c'è l'ultimo baruardo che è quella zona lì dei 25.000 sotto i 25.000 profondo rosso questo è il problema quindi se noi abbiamo iniziato a non avere forza come in questo momento su bitcoin rispetto al nasdaq poi se il nasdaq inizia la fase di chiusura dell'annuale allora lì bisogna starsi attenti perché nonostante nel lungo periodo bitcoin ha dimostrato di essere un asset più robusto nel breve potrebbe subire questo è concettualmente la questione è un subire non poco quindi potrebbe essere spicoloso difficile se non gestito bene la questione va bene ragazzi sempre mille domande io vi ringrazio siete fantastici ma devo assolutamente andare sono pazzo se penso che nuovi 15.000 sarebbe un'enorme occasione sì sei pazzo Gianluca perché il mercato non ti regala niente quindi se il mercato arriva a 15.000 e non è per un evento esogeno come la pandemia fai attenzione perché il motivo c'è questo è il discorso può essere magari che poi nel lungo periodo si pensa che sia una grande occasione però se i mercati ci arrivano un motivo c'è quindi ragiona sul perché ci sono arrivati se ci sono arrivati per follie o per esagerazioni o nel caso della pandemia per esempio sceso tanto perché non si sapeva cosa sarebbe successo ma quando si è capito che le banche centrali immettevano liquidità poi è iniziata quella campaneria alzista perché quindi quella discesa è stata anomala perché non si capiva cosa sarebbe avvenuto ma se non succede una cosa del genere quando i mercati scendono scendono per un motivo quindi io starei molto attento a fare un contro trend di queste dimensioni va bene stare dice è possibile che la debolezza dell'ultima parte del ciclo precedente sia dovuta al cigno nero dovuta a cose sì esatto abbiamo appena detto raggiunto tale sì più o meno insomma ci siamo trovati diciamo con questa idea ragazzi io volevo vedere però bnb la stessa che era rimasta quindi vediamo solo bnb e fine dei giochi perché devo chiudere quindi ok eccola qui abbiamo la struttura ciclica di bnb che anche lei dovrebbe avere una chiusura di ciclo annuale come matic tra poco bnb ha fatto un massimo in questa zona che però io non considero in quanto come vedete la struttura del massimo è secondo me fatta a novembre e qui il massimo non è non è alto anzi è un po' preoccupante perché diciamo è stato fatto nella prima parte del ciclo però è anche vero che questa è una barra di congestione poi io spero non ci siano notizie sconcertanti su Binance altrimenti ragazzi andiamo a fare veramente i minimi struttura ciclica di questo trimestrale di Binance in fase di chiusura è una struttura ternaria anche qui Binance secondo me è iniziato l'ultimo movimento che va a chiudere questa fase per questo in questo momento io sono leggermente più attento perché ho paura che i mercati vadano giù da un momento all'altro per chiudere questi cicli che in sostanza durerebbero cioè durerebbero una ventina di giorni questa fase quindi niente di di atroce però potrebbe essere insomma estremamente diciamo difficile da da gestire questa fase stravedere mi dice che dovevo vedere atom hai ragione assolutamente la vediamo un attimo quindi anche qui comunque ragazzi identica fotocopia di matic vediamo invece atom la struttura di atom ti faccio vedere la struttura perché è anche lei una fotocopia totale di bnb con una struttura ad m che però porta anche in questo caso il massimo nella prima parte questo a me non piace mai ve lo dico proprio chiaro non che sia tecnicamente a livello ciclico una cosa insomma che crei un vincolo non crea un vincolo però è fondamentale assistere magari a una chiusura non molto pronunciata di questa struttura ciclica anche qui giugno tutte queste cripto hanno una scadenza temporale a giugno poi che la rispettino meno c'è tutto da vedere come ben avete imparato a comprendere però ci dà un'informazione giugno è un mese delicato ragazzi quindi dobbiamo stare attenti e vedere questa cosa siamo a maggio c'è il sale main go away c'è il nasdaq che ha fatto i massimi di periodo relativi molto alto e fortissimo il bitcoin non ha seguito ha iniziato la struttura di chiusura del ciclo semestrale le altre cripto invece chiudono l'annuale da giugno in poi potrebbe verificarsi una super combo perché potremmo avere la chiusura del semestrale di bitcoin e degli annuali delle altre cripto tra cui magari anche ethereum e da lì magari iniziare una mini alt season che potrebbe accompagnare le cripto nella partenza di un nuovo annuale soprattutto quelle grandi come appunto atom matic e bnb eccetera e accompagnare bitcoin al tentativo di fare un nuovo massimo io lo vedo ancora bitcoin che nel secondo semestrale tenta magari di toccare quei famosi 32 ma soprattutto non vi nascondo che lo spero perché qualora non fosse così l'ipotesi che vi dicevo prima di questo annuale lento declino che possa portare vicino ai minimi c'è e dobbiamo stare molto attenti a quello quindi la seconda parte dell'anno da giugno in poi sarà molto importante per questa fase quindi per la fase rialzista che abbiamo già tradato ma sarà importante per la fase per la seconda parte che ha un'ambivalenza che è impossibile prevedere in nessun modo non abbiamo nessun dato dovremmo stare sul mercato e poi adagiandoci su quello pian piano vedere cosa fa bitcoin e capire i trend giusti quindi mentre la chiusura lo scorso anno novembre era stato atteso poi c'era stato diciamo tutto quel macello che aveva fatto a giugno ma poi alla fine la prima ipotesi era vera da giugno in poi occhi aperti ragazzi anche perché ci possono essere grandi occasioni e le occasioni quando arrivano dovete farvi trovare preparati io questo lo dico ragazzi c'è una una frase che dico spesso nella mia testa e dico i bear market non bastano mai ora non è una fase negativa perché non è il senso del dire i bear market non bastano mai perché dobbiamo avere più bear market e perché i bear market servono a prepararsi a quello che viene dopo e non bastano mai perché non si è mai troppo pronti non si è mai preparati fino in fondo bisogna nei bear market bisogna fare il contrario di quello che fanno quasi tutti cioè quasi tutti si illudono come abbiamo visto nel diagramma dell'investitore diventano depressi abbinimento abbandonano voi dovete fare il contrario approfondire ragazzi perché lì si genera la differenza perché poi quando i mercati vi danno l'occasione vi trovate al centro del campo vi arriva la palla e la porta è vuota questo è il discorso quindi fate vol vabbè detto questo vi ringrazio noi ci vediamo in una prossima live ragazzi ci sono sempre tante domande da fare magari facciamo più live quando ho un po' più di tempo vi voglio bene come sempre grazie a tutti per stare qui con me noi ci rivediamo nel prossimo video ciao